Ciao a tutti, oggi vi propongo una ricetta con le albicocche. Cosa possiamo fare con le albicocche, oltre che mangiarle magari con uno yogurt oppure farci una marmellata? Dei crostini di pane, dei crostini di pane accompagnati con dell'hummus di ceci, di cui ho pubblicato la ricetta qualche settimana fa, e le albicocche grigliate. Sembra un abbinamento molto strano, però vi assicuro che è buonissimo perché ha un contrasto particolare con la sprezza dell'albicocca e il salato dell'hummus di ceci. E non aggiungo altro, vi lascio la ricetta. Ciao ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!